Il decreto è stato trasmesso, quindi dovrebbero esserci le garanzie, non ho ancora visto ovviamente il decreto, penso che ci sarà a breve una nota anche da parte di Palazzo Chigi, chi ha seguito l'operazione, il messaggio di oggi credo sia che abbiamo fatto un percorso lungo, Torino ci ha creduto sin dall'inizio, continua a crederci, il governo ci ha creduto perché ha fatto la sua parte e adesso seguiamo ancora con più attenzione e Torino fino all'ultimo ci proverà come abbiamo fatto in queste ultime settimane.